Il Piemonte accelera sull'idrogeno ed entra, prima regione italiana, nell'associazione Hydrogen Europe, la principale organizzazione europea con sede a Bruxelles, che raggruppa le più importanti aziende europee, ma anche gli attori pubblici intenzionati a muoversi verso una vera transizione ecologica. L'idrogeno è uno dei nostri progetti bandiera sul PNRR, sottolinea il presidente della regione, Alberto Cirio. Puntiamo a esserne una delle capitali internazionali. Con questo atto, fa ecco l'assessore regionale Matteo Marnati, il Piemonte conferma il suo ruolo di primo piano nel panorama nazionale ed internazionale di sviluppo della tecnologia dell'idrogeno, sia per contribuire a raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico, sia per sostenere le filiere industriali e i punti di forza presenti sul territorio. La regione Piemonte da tempo sta lavorando su questo tema ed è una delle poche regioni in Italia ad aver costruito la creazione di una filiera idrogeno che ha consentito di creare un sistema di imprese attive nel campo. Sottolinea ancora Marnati, abbiamo aderito all'avviso pubblico con il quale il Ministero per la Transizione Ecologica ha avviato un'iniziativa di sostegno agli investimenti per la produzione di idrogeno verde nelle aree industriali dismesse. Stiamo dunque effettuando una mappatura delle aree potenzialmente idonee.